Investimenti per garantire un'autostrada più sicura, controlli sui concessionari dei tratti autostradali con modifica del rapporto tra governo e gli stessi, ma i più disagi che gli automobilisti hanno vissuto sulla loro pelle tra novembre e la fine di gennaio con ripercussioni negative anche sulle località che si affacciano lungo la statale 16. Il ministro delle infrastrutture dei trasporti Paola De Micheli ha illustrato il piano di intervento in occasione della sua visita a Pineto nell'ambito del tour organizzato dal Partito Democratico in Abruzzo. Al centro dell'attenzione dunque la questione A14 con un progetto ampio. Riguarda ovviamente sia le 13 parti di autostrada sequestrate ma che ha anche una gittata più ampia su questo tratto autostradale. Sono oltre 60 milioni di euro di investimenti che prevedono adeguamenti e messe in sicurezza di aree che riguardano ponti, che riguardano ovviamente gallerie e anche la sistemazione di quelle aree sottoposte a sequestro per le barriere che non erano idonee e che sono state sequestrate dalla magistratura. Ciò che è successo nel periodo prenatalizio nei giorni successivi ha sicuramente aperto ad una riflessione seria. Da quell'esperienza abbiamo tratto come governo l'insegnamento di un intervento strutturale tutte le volte che ci sono problemi di viabilità sui pedaggi. In secondo luogo ci sono 4 milioni e mezzo con un progetto esecutivo che Aspi ci presenterà il 20 di marzo sul Cerrano e che prevederà un intervento che non compromette la viabilità. Inoltre ci sono circa mezzo milione di euro o poco più di interventi sulla Statale 16 perché i comuni coinvolti dal blocco autostradale per il passaggio dei mezzi pesanti hanno avuto una serie di danni che verranno compensati da un intervento di autostrade per l'Italia. Per quanto riguarda il rifacimento dei manti d'asfalto sulla SS16 i lavori partiranno a breve e interesseranno i territori di Roseto, Pineto e Silvi sulla vicenda dei guardrail in New Jersey e del viadotto Cerrano. Il ministro De Micheli ha ricordato come il ministero non potesse entrare nel merito ma qualcosa ora è cambiato. Da adesso in poi ci entrerà finalmente perché lo vogliamo fortemente perché riteniamo che il concedente e la parte pubblica debba avere un ruolo diverso da quello che ha avuto nel passato. Credo che le misure che abbiamo messo in campo aiuteranno almeno a far sì che questo non accada più. Finito l'approvazione di tutti i piani di investimento, di manutenzione su questo tratto dell'A14, quindi questi sostanziali 60 milioni, faremo anche un tavolo tecnico per la valutazione sia progettuale che economica dell'eventuale aumento alla terza corsia dell'A14, quindi diciamo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.